A quanti anni è morta la regina Elisabetta? 96. Ascoltate questa storia e rimarrete scioccati quanto me, che non ho ancora sentito parlare da nessuna parte di questo dettaglio, non penso di averlo scoperto io per prima, ma mi sembra una coincidenza molto, ma molto scioccante. Salve a tutti e benvenuti nel mio canale, sono Faville, e questo è Gioielli Reali. In questa puntata, come avevo già anticipato per chi ha visto i video che parlano della famiglia reale, vi racconto la storia della tiara che è stata sfoggiata dalla regina Camilla nell'ultimo banchetto, il banchetto di benvenuto per l'imperatore Naruito, e la tiara in questione è la tiara dei rubini birmani. Questa tiara ha una storia interessante, ma quello che è ancora più interessante di questa tiara è il dettaglio che la collega alla regina Elisabetta. La tiara è stata creata per la regina Elisabetta, per suo stesso volere. Questa tiara in particolare è stata creata, come spesso accade, smantellando pezzi di altre tiare. Cosa succede? Andiamo indietro nella storia fino al matrimonio della regina Elisabetta. La regina riceve come regalo di nozze da un principe indiano la tiara del Nizam di Hyderabad. Il principe aveva detto alla regina di scegliere un regalo da Cartier e la regina sceglie questa tiara floreale insieme ad un paio di orecchini che sono stati costruiti negli anni Trenta. Ovviamente nel momento in cui sale al trono la regina nel 1953, eredita tutti i gioielli della corona, fra cui anche il cerchietto indiano. Il cerchietto indiano è una tiara che era ricoperta di opali, che era appartenuta alla regina Vittoria. Però la regina Alexandra, per via della sua superstizione, fa sostituire gli opali con dei rubini. Dato che la regina Elisabetta II aveva già la sua collezione ereditata direttamente perché apparteneva alla corona, quando lei sale al trono, sua madre, la regina madre, anche lei Elisabetta, che era vedova e aveva comunque sia davanti a sé ancora molti anni di servizio, mantiene alcuni gioielli, mantiene alcune tiare, che la regina Elisabetta, la figlia, le lascia semplicemente perché dice vabbè dai io ce ne ho già abbastanza, non c'è bisogno che gli vado a levare pure il cerchietto a mia madre, che è appena diventata vedo essenzialmente. Quindi alcuni possedimenti, alcuni gioielli che sono della regina, in realtà la regina non li ha mai utilizzati fino alla morte di sua madre, fino al 2022. Il cerchietto indiano lei lo riprende nel 73, lo ha indossato soltanto una volta. Sono io dal futuro che interviene perché quello del passato stava per fare un po' di confusione. Allora quella che la regina ha indossato soltanto una volta non è il cerchietto indiano, noto anche come cerchietto orientale. Il cerchietto orientale apparteneva alla regina Vittoria e io l'ho confusa con quella che lei ha ricevuto in dono dal principe indiano. Quella che lei ha ricevuto in dono dal principe indiano è quella che lei ha indossato soltanto una volta e poi non l'ha rimessa più perché a quanto pare aveva dei problemi ad indossarla, le veniva male, per questo poi ha deciso essenzialmente di smantellarla, non l'ha più rimesso e ha preferito farlo smantellare. Io spero che il principe indiano che glielo ha regalato non ci sia rimasto male perché lei nel 73 si rivolge a Gerard e fa commissionare questa nuova tiara smantellando il cerchietto indiano e utilizzando dei rubini che le erano stati donati anche questi come regalo di nozze dal popolo indiano. Non è il popolo indiano ma il popolo birmano da cui rubini birmani e quello che c'è di sorprendente è che il numero di rubini che le sono stati donati coincide esattamente con l'età in cui lei è morta. Cioè le hanno donato 96 rubini che sono i 96 rubini che possiamo vedere nella tiara che viene utilizzata al giorno d'oggi e le sono stati donati 96 rubini dal popolo birmano perché secondo il popolo birmano 96 sono le malattie del corpo umano. Il popolo birmano comunque si dovrebbe aggiornare spero che l'abbia fatto dopo il covid l'HIV e tante altre malattie credo che non siano più 96 però io trovo sorprendente il fatto che i birmani le abbiano regalato 96 rubini e questa cristiana mora a 96 anni. Ora per loro erano il numero delle malattie comunque sia sta di fatto che coincide ragazzi cioè non può essere una coincidenza io la trovo una cosa sconcertante nessuno di queste cose ne ha parlato Nostradamus, niente nessuno ha sentito niente che io adesso sto iniziando a fare una ricerca e ovviamente loro l'avano fatto a fin di bene però adesso per me è inevitabile chiedermi che cosa sarebbe successo se i birmani avessero regalato 104 rubini ragazzi a sto punto cioè io mi sento di consigliarvi semmai dovessero regalarvi dei gioielli una tiara non si sa mai fate abbondare con le pietre lui dice vabbè è una coincidenza la regina Elisabetta aveva 87.000 tiare ogni tiara avrà un numero di pietre diverso e anche questo è vero però io trovo sorprendente il fatto che le vengono regalate queste pietre 96 proprio per proteggerla dalle malattie e non so le altre pietre con che intento le sono state regalate comunque sia vabbè che comunque non risolveremmo niente semplicemente una curiosità comunque io adesso cercherò nell'occulto questa informazione se c'è qualcosa allora questa nuova tiara viene creata nel 73 con un motivo di rosa che ricorda la rosa dei Tudor è stata indossata molto spesso dalla regina Elisabetta e dopo tutto lei è la prima proprietaria pensate lei è la prima proprietaria suo figlio il secondo ma Camilla è la seconda praticamente che la utilizza l'ha utilizzata in un'occasione nel giubileo d'argento in Nuova Zelanda nel 77 e l'ultima volta nel banchetto che si è tenuto a Buckingham Palace per gli Stati Uniti in questa occasione ha indossato la tiara in parure con la collana e gli orecchini di Rubini poi nel 2022 la regina Elisabetta muore come ho già menzionato Re Carlo eredita direttamente i gioielli della corona però ovviamente lui non va in giro con le tiare e manche mi piacerebbe vederlo visto che è un re moderno potrebbe anche diciamo prima o poi arriverà a questo momento magari in un prossimo prossimo futuro però se tanto mi da tanto oggi si parla di ecologia un domani si parlerà anche di pari diritti e quindi prima o poi ci sarà un re che indosserà la tiara ragazzi iniziate da figurare perché almeno ci prepariamo mentalmente comunque al tempo presente non è il re che indossa le tiare e i gioielli ma sua moglie quindi la prima persona che dopo la regina Elisabetta ha indossato questa tiara la tiara dei Rubini Birmani è la regina Camilla e la indossa per la prima volta nel novembre del 2023 in occasione del banchetto per la Corea del Sud anche in questa occasione lei la indossa esattamente come la regina Elisabetta in parure con orecchini e con lana e l'ultima volta che viene utilizzata che viene indossata è proprio al banchetto per il Giappone di giugno 2024 e questa è la interessante e breve storia della tiara dai Rubini Birmani quindi la prossima volta che la vedrete indossare perché la vedrete indossare perché a Camilla piace la tiara voi potrete dire io quella tiara la conosco se questo video vi è interessato lasciate un like o un commento seguitemi su Instagram Royal Vibes 2024 per rimanere aggiornati sulle mie creazioni i miei design che sono disponibili nel mio Etsy dove potrete trovare anche questa che è bellissima che mi è appena arrivata che bella visitate il mio Etsy vi metto pure il link qui sotto in descrizione io vi mando i miei saluti reali e ci vediamo al prossimo gioiello reale saluti reali grazie a tutti